Ognuno di noi ha un'impresa e quindi anticipare determinate tendenze, comprenderle, esserne a conoscenza è la chiave spesso per avere successo. Presumere di sapere è la madre di tutte le... fregature... sì, di tutti gli errori, diciamo, che puoi fare. Questa cosa significa che anche nell'attività di comunicazione, anche nell'attività di marketing, anche in tutte le attività che stiamo parlando adesso, se parliamo di strategia, si deve assolutamente basare su dati. Se non ti dai una sveglia, non entri in contatto con un nuovo modo di gestire. Allora hai due strade, o impari un nuovo modo, competenze che c'erano di prima, oppure lasci andare. La strategia ha un orizzonte temporale lungo e un budget assegnato, se vogliamo essere precisi. Il motivo per cui spesso non si fa strategia o strategia sulla bocca di tutti, ma non è strategia e che si guarda con un orizzonte temporale troppo corto. Cosa devo fare domani? Che clienti devo chiudere? Invece quello che cerco di condividere è una visione strategica. Cosa succede avanti, quindi 2022 e oltre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.